nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est il friuli venezia giulia è pronto a ripartire lo farà domani entrando a pieno titolo nella fase 2 pur nel rispetto della sicurezza perché l'emergenza non ancora finita l'annuncio del governatore massimiliano fedriga nel corso di una conferenza stampa il presidente del friuli venezia giulia ha illustrato le linee guida per la ripartenza delle attività economiche produttive e ricreative sul territorio regionale prodotto dalla conferenza delle regioni e delle province autonome cronaca non ce l'ha fatta il giovane cormonese precipitato dal tetto di un edificio di via duomo a cormons troppo gravi per il 25enne le ferite riportate dopo un vuoto nel vuoto di una decina di metri il ragazzo si trovava sul colmo di un'abitazione limitrofa a quella del padre quando per caso è ancora da chiarire è precipitato al suolo purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare tentativo di salvargli la vita da parte dei sanitari accorsi sul posto è stato vano inutile la corsa in ambulanza verso l'ospedale di udine ha perso il controllo dell'auto una volkswagen su cui viaggiava ha divelto un semaforo e quattro parracarri prima di terminare la sua corsa all'arrivo dei soccorsi il conducente un 23enne della zona ha rifiutato le cure mediche sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri lo schianto è venuto ieri sera intorno alle 20 in via roma a ponte delle alpi oltre all'ambulanza del 118 sono intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco l'auto sradicando i paracarri posti a protezione dei pedoni ha mandato in frantumi il marciapiede per questa ragione si è resa necessaria una messa in sicurezza dell'area fortunatamente nessuno è rimasto ferito perché in quel momento nessun pedone si trovava nella traiettoria compiuta dall'auto ed ora linea alla redazione di treviso ss virus oltre 300 letti vuoti nell'rsa della marca buco di 2 2,5 milioni la giunta veneta vara una grande ricognizione contabile per quantificare maggiori spese e minori mintroiti per le ipab prova la moto sviene per il monossido la moglie lo salva trascinandolo fuori tragete esplorata a marino in un garage di via papa luciani sono finiti all'ospedale in quattro il 44enne dice mi sono sentito male all'improvviso alfredo si prepara a distanza e confort la qualità va preservata martina filippi con i fratelli michela e nicola ha rilevato l'attività di paparturo deceduto esattamente un mese fa per il virus uniamoci adesso centinaia di commercianti scendono per protestare contro il governo a meno di 48 ore dall'inizio della fase 2 per molte attività ancora ad oggi chiuse e i cittadini si sono pacificamente trovati in piazza dei signori per lanciare il loro grido di allarme perde il controllo dell'auto e finisce in un canale donna salvata dai vigili del fuoco l'incidente per motivi ancora da chiarire è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato in via baratta nuova a preganziol sul posto anche il suo m118 le forze dell'ordine rosario moreno treviso per radiodiffusione europea mestre ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti davanti al museo m9 in via poerio perché dei ragazzi stavano alzando decisamente i toni due in particolare stavano litigando vivacemente uno dei due un 22enne moldavo aveva fatto degli apprezzamenti alla fidanzata di uno dei componenti di un altro gruppo di ragazzi quando sono arrivati sul posto i vigili hanno notato subito uno dei ragazzi circa una decina che era senza mascherina uno degli agenti quindi oltre a cercare di calmare gli animi gli ha fatto notare che non era permesso uscire senza di provvedere a procurarsene una giovane per tutta risposta ha iniziato a insultare minacciare gli agenti per poi scagliarsi contro di loro e spintonarli con aria di sfida la reazione dei poliziotti non si è fatta attendere hanno atteso momento migliore facendolo sfogare per un po per poi immobilizzarlo a terra e caricarlo in macchina il tutto sotto gli occhi di residenti e passanti che a termine dell'operazione si sono lasciati andare ad un applauso liberatorio anche perché a un certo punto pareva che la situazione potesse degenerare il gruppetto dei suoi amici si è avvicinato minaccioso i vigili forse pensando di prendere le difese dell'amico la reazione degli agenti probabilmente li ha fatti desistere per il 22enne moldavo è scattata quindi la denuncia per esistenza pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità il fondo previsto dal governo per il sostegno al trasporto pubblico assomiglia a una tragica presa in giro i 500 milioni previsti dal decreto rilancio coprano a malapena un terzo delle perdite per le imprese del settore stimate per il 2020 in almeno 1,5 miliardi a livello nazionale secondo le analisi delle associazioni di categoria così l'assessore ai trasporti del friuli venezia giulia graziano pizzimenti lo sanziamento ha proseguito insufficiente addirittura per ristorare i mancati ricavi di questa prima fase dell'emergenza sanitaria per i primi due mesi di lockdown il danno economico subito dal tpl compreso servizio ferroviario a livello nazionale ammonta ad almeno 600 milioni di euro non è accettabile che in un momento come questo in cui tutto il paese duramente provato ci sia chi abbia come preoccupazione quella di alzare così tanto i toni con offese così gravi e minacce con queste parole il presidente della regione del veneto luca zaia esprime la sua ferma condanna per le scritte apparsa a milano in cui viene ingiuriato il collega lombardo fontana anche a nome dei veneti esprimo la più assoluta condanna per il gesto ingiustificabile e inqualificabile ed esprimo tutta la solidarietà al presidente fontana le parole usate vanno oltre l'offesa perché nella situazione in cui viviamo possono assumere nei significati almeno mille saccitature diverse fare del collega il bersaglio di ulteriore accanimento non c'è giustificazione che tenga spero che la condanna sia unanime senza sé e senza ma sono state settimane difficili ma ci hanno permesso di conoscerci meglio di avere più cura di noi stessi di rispettarci di più avere più attenzioni per il prossimo dare valore ai piccoli gesti d'affetto adesso siamo pronti ad affrontare il futuro ripartiamo insieme sul friuli venezia giulia cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa variabile in montagna possibile qualche locale rovescio o temporale pomeridiano più probabile sui monti ma possibile anche in pianura soffierà borino bora moderata domani su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso con qualche velatura in montagna cielo da poco nuvoloso a variabile nel pomeriggio sarà probabile qualche locale rovescio temporale specie verso il cadore sulla costa soffierà borino o bora moderata passiamo al veneto nuvolosità in diminuzione fino a cielo in prevalenza se ne sereno in pianura e fino alle ore centrali anche in montagna dove il pomeriggio potranno verificarsi a nuvolamenti di tipo cumuliforme per la giornata di domani cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo maggiori addensamenti sulle zone montane nel pomeriggio per il momento dal nord est tutto appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti